Girl, I like the way you move, come show me Vuoi vivere una settimana da sogno a bordo di MSC Fantasia? Allora partecipa a Miss Stella del Mare 2015, il concorso che premia il talento, la bellezza ed il portamento. Mercoledì 22 luglio ore 21 e 30, seconda selezione provinciale, nella suggestiva cornice del pub Red Moon, sul lungomare di Bova Marina. Parco allestito sulla spiaggia e set fotografico a Voiano, tra Ghirlande di Fiori e Pareo Colorati. Diretta radiofonica sul Studio 95 per info e descrizioni 342 80 18 023.